Associazione per delinquere finalizzata all'usura e al riciclaggio. Questo è il principale reato contestato ai 14 destinatari di altrettanti misure restrittive messe dal G per il Tribunale di Taranto, Patrizia Todisco, su richiesta del sostituto procuratore della Repubblica di Taranto, Giovanna Cannarile, nell'ambito della maxi operazione Signora e degli Agnelli, messa a segno alle prime luci dell'alba dai carabinieri della compagna di Castellaneta in collaborazione con i militari del reparto operativo e delle compagnie carabinieri di Taranto, Manduria, Massafra, Martina, Franca, Bari-San Paolo e Mantova con il supporto di un elicottero del sesto elinucleo carabinieri baripalese. L'attività info investigativa dei carabinieri è preso il via nel 2009 grazie alla denuncia di un allevatore di Palagianello che riferì di un giro usurario nei confronti di piccoli e medi imprenditori e commercianti in difficoltà con tassi di interesse del 10-12% al mese e quindi almeno del 120% su base annua. Il tutto avveniva presso una macelleria dove le vittime si recavano per chiedere la consegna di uno o due Agnelli intendendo in realtà il prestito di 1.000-2.000 euro in contanti da cui il nome dell'operazione. Le indagini hanno consentito di delineare la struttura interna dell'organizzazione retta dal 56enne Fernando Rizzi, imprenditore edile di Palagiano, pluri pregiudicato anche per associazione mafiosa. Sotto la sua guida operava in qualità di luogotenente e finanziatore il 61enne Palagianese pregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona, anunzio ruffino idraulico di professione. Il suo referente diretto al quale fidava il denaro era il macellaio Palagianese 40asiene Vincenzo Carone con precedenti per usura che, con la collaborazione della consorte Ersilia Furino, consegnava il denaro prestato all'interno della macelleria. A finire in manette anche il braccio armato a disposizione del sudalizzo il cui compito era quello di intimorire le vittime con danneggiamenti e richieste estorsive al fine di costringerle a restituire le somme pattuite. Si tratta di Gennaro Mancini, 53enne di Palagiano con precedenti per detenzione a porto illegale di armi e munizioni, operaio metalmeccanico, Francesco Mancini, fruttivendolo palagianese di 41 anni e Pasquale Fronza, 39enne di Palagiano. Operaio, questi ultimi due detenuti in quanto condannati dalla Corte d'Assise d'Appello di Taranto all'ergastolo per il duplice omicidio di Domenico a Torre e Domenico Petruzzelli compiuto a Motola nel 2011. Tra gli arrestati anche Massimo Giannuli, palagianese, 57enne, titolare di una ditta per Movimento Terra, con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, attualmente sottoposto agli arresti domiciliari, e Gabriele Carangelo, benzinaio palagianese, 39enne incensurato, che nonostante fossero essi stessi le vittime di usura da parte del gruppo criminale, procacciavano nuovi clienti per avere sconti sui tassi. L'attività tecnica, poste in essere dei militari, ha permesso di evidenziare le feratezze e la mancanza di scrupoli degli usurai, desiderosi di recuperare le somme prestate, maggiorate dei relativi interessi sprezzanti della condizione di difficoltà delle vittime, ed in caso di nottemperanza le loro aziende venivano ripulite o addirittura passavano nella completa disponibilità degli usurai. I carabinieri nel corso delle indagini hanno rinvenuto e sequestrato complessivamente assegni ed effetti bancari per un importo complessivo di circa 500 mila euro, mentre durante le perquisizioni odierne hanno sequestrato presso l'abitazione di Carone la somma di circa 10 mila euro tra contanti ed assegni.